amici di storie fuori gioco ben ritrovati in un nuovo appuntamento con football mystery la web serie che racconta storie curiose singolari a volte incredibili del mondo del calcio apriamo un capitolo dedicato agli affari più clamorosi di calcio mercato per ogni principale club nel corso degli anni il costo dei cartellini dei calciatori aumentato esponenzialmente ma spesso anche nel passato si sono raggiunti accordi a cifre stratosferiche andiamo a scoprire quali sono stati gli affari più onerosi considerando sempre il costo effettivo del cartellino compresi eventuali bonus versati in questo capitolo andiamo a scoprire i 10 calciatori più costosi nella storia della juventus federico chiesa 40 milioni di euro un acquisto discusso dopo quello di bernardeschi e prima di quello di vlaovic l'autostrada tra firenze torino è sempre infuocata quando gli idoli viola passano ai rivali bianconeri chiesa arriva con una formula di prestito biennale con obbligo di riscatto a 40 milioni che scatta solo nel 2022 acquisto particolarmente azzeccato in bianconero chiesa cresce esponenzialmente ed è protagonista anche della spedizione azzurra vincente agli europei dopo 53 anni dall'ultima vittoria l'ultima stagione viene spezzata da un infortunio che penalizza la juventus e la nazionale in maniera pesante a riprova dell'importanza ormai acquisita joao canselo 40 milioni e 400 mila euro da molti considerato il miglior terzino al mondo nel 2018 la juventus lo strappa all'inter che non ha la forza economica per riscattarlo dal valencia oltre 40 milioni di euro ma la stagione non è folgorante come quella in nero azzurro soprattutto manca la consagrazione in champions nell'anno dell'arrivo di cristiano ronaldo in bianconero la qualità però resta tanto che il manchester city pagherà poi 65 milioni di euro per portarlo in premier paolo di bala 41 milioni di euro tra i gioielli venduti dal palermo di zamparini a peso d'oro dopo cavani e pastore la gioia è la ciliegina sulla torta 41 milioni dopo la prima stagione in serie a bagnata da 13 gol la juventus ci crede subito e l'argentino parte con 19 gol in serie a per poi brillare in champions l'anno della finale di cardiff con una strepitosa performance contro il barcellona raggiungerà 115 gol complessivi in maglia bianconera in 17 stagioni con rammarico delle ultime annate contraddistinte da tanti alti e bassi anche a causa di diversi problemi fisici pavel nedved 45 milioni di euro un altro trasferimento romanzesco un elicottero per portarlo dalla lazio alla juventus a poche ore dalla firma del prolungamento del contratto con la società romana con la quale aveva conquistato sette titoli scudetto compreso dal 1996 al 2001 ciclo vincente interrotto proprio con il suo addio torna invece subito a vincere con la juventus sentitosi tradito dalla dirigenza laziale nedved diventerà uomo simbolo tanto da essere ancora dirigente bianconero il rimpianto è manchester nella sua stagione migliore quello che lo porterà nel 2003 alla conquista del pallone d'oro una prestazione gigantesca in semifinale di champions league contro il real madrid sarà macchiata da un'ammunizione che lo porterà a saltare per squalifica la finale col milan con lui in campo forse la storia sarebbe finita diversamente gian luigi buffon 53 milioni di euro nel 2001 la juventus versa nelle casse del parma di fatto 105 miliardi delle vecchie lire 75 in contanti e 30 con il cartellino di jonathan bachini qui non ci sono dubbi sul rendimento buffon diventerà un mito bianco nero come più di dino zoff tra i pali conquistando l'enormità di dieci scudetti più due revocati sette supercoppe italiane e sei coppa italia nel mezzo anche il mondiale in azzurro mancherà la consagrazione della champions persa tre volte in finale nel 2017 contro il real madrid nel 2015 contro il barcellona ma il rimpianto più grande resta manchester e quei rigori contro il milan artur 76 milioni di euro valutazione enorme per il centrocampista brasiliano in un affare col barcellona in cui la juventus ha comunque valutato 60 milioni il cartellino di milan pjanic a bilancio una cifra che comunque è importantissima per un calciatore che è arrivato 23 anni a torino si pensava potesse esplodere ma che complici anche tanti problemi fisici non è ancora riuscito a fare la differenza pur restando nel giro della nazionale brasiliana dusan vlaovic 81 milioni e 600 mila euro una storia appena iniziata arrivato alla juventus a gennaio del 2022 vlaovic fa parte dei giocatori che la vecchia signora ha strappato a piazze che stravedevano per i propri idoli in lizza per la classifica dei cannonieri poi finita per la quarta volta nelle mani di ciro immobile alla juve vlaovic fa comunque vedere cose importanti nella prima stagione in dieci anni che si chiude però senza titoli per i bianconeri compresa la finale di coppa italia in cui il serbo va a segno ma a 22 anni inevitabilmente la partita è ancora tutta da giocare il difensore più costoso nella storia nel 2019 la juventus versa l'ajax 500 mila euro in più di quanto il liverpool pagò al southampton un anno e mezzo prima per acquistare un altro olandese virgil van dike the elite gioca una stagione da predestinato con l'ajax che perde all'ultimo secondo l'accesso alla finale di champions league contro il tottenham dopo aver eliminato proprio la juve in tre stagioni in bianconero però si sommano tanti errori e soprattutto molti falli da rigore mai troppo graditi dalla tifoseria bianconera al momento l'investimento sembra eccessivo ma il resto della storia ancora da scrivere gonzalo iguain 90 milioni di euro 90 milioni di clausola rescissoria per il pipita che doveva essere l'ultimo tassello per rendere invincibile la juve di allegri già lanciata verso il record di scudetti consecutivi nel 2016 iguain lascia napoli nello sconforto dopo il record da 36 gol poi eguagliato da ciro immobile con la lazio alla juve è subito finale di champions league ma cardiff segnerà manzukic la prima stagione è la migliore con 24 gol in campionato e 32 complessivi poi arriva un calo i prestiti al milan e al celsi il suo vecchio mentore sarri nel 2019 prova a rilanciarlo ma senza troppo successo per l'inizio definitivo della parabola discendente nella carriera del bomber argentino cristiano ronaldo 117 milioni di euro per costo complessivo un'operazione difficilmente replicabile probabilmente una strategia che ha portato alla separazione con beppe marotta dopo un lungo sodalizio cr7 alla juventus ha riportato la serie al centro dell'attenzione internazionale come non accadeva dai primissimi anni 2000 col giocatore più importante del mondo assieme a leo messi che sceglieva l'ennesimo grande campionato in cui stabilire record in tre stagioni ronaldo lavorerà con tre allenatori diversi allegri sarri e pirlo ma non supererà mai i quarti di finale di champions league che restava l'obiettivo da raggiungere grazie a lui 101 gol complessivi tra campionato e coppe il titolo di capocannoniere 2021 ma dopo due scudetti mancherà il tris dopo che per la juventus erano arrivati 9 titoli consecutivi se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di football mystery alla prossima